Le leggi con cui ci governano non vengono fatte dallo Stato, ma vengono fatte dai politici. Ovvero, a prescindere che questi vengano eletti dai cittadini o che prendano il potere con la forza, alla fine le leggi vengono create sempre da una ristretta elite di persone. Ora, a differenza di quanto comunemente si crede, l'obiettivo principale di queste persone in realtà non è né il bene comune, né il popolo, né lo Stato, ma sono fondamentalmente i loro interessi personali. Ovvero, ve lo dico in altri termini, le elite che governano i paesi tendono a mettere al primo posto tra i propri obiettivi i propri interessi personali. Guardate che non c'è nulla di cui stupirsi, anzi, è piuttosto normale. Ma vi dirò di più. Sapete da un po' di tempo a questa parte che cosa fanno spesso queste elite? Creano nuovo debito pubblico per finanziare le loro iniziative propagandistiche mirate principalmente ad acquisire consenso personale. Ovvero, l'acquisizione del consenso personale è il loro principale obiettivo e sono disposti anche a far emettere nuovo debito pubblico pur di finanziare queste iniziative. Purtroppo, questa è una pratica ormai molto diffusa. Oltretutto, che cos'è il debito pubblico? Sono di fatto soldi sottratti alle nuove generazioni senza il loro consenso. Quindi, spesso, ci sono politici che prendono denaro dalle nuove generazioni senza il consenso delle nuove generazioni per usarlo per finanziare iniziative propagandistiche personali. Ora, quando questo debito pubblico sale a livelli elevati o molto elevati, purtroppo ormai ci sono tantissimi stati che hanno debiti pubblici elevati o molto elevati, ad esempio l'Italia ce l'ha molto elevato, quello che ce l'ha più elevato di tutti è il Giappone, ma insomma anche gli Stati Uniti d'America hanno un debito elevato, eccetera, eccetera, eccetera. Ci sono pochissimi paesi, come ad esempio la Svizzera, che hanno un debito pubblico ridotto. Ebbene, quando questo debito pubblico è troppo elevato, si arriva ad un certo punto in cui c'è un unico modo realistico per ridurlo o comunque perlomeno tenerlo sotto controllo. Questo modo è l'inflazione. Cioè, in altri termini, se in teoria esisterebbero anche altri modi per ridurre o contenere questo debito pubblico, poi in realtà l'unico che funziona veramente è l'inflazione. Dovete sapere che ci sono molti stati in cui c'è un'inflazione elevata che fondamentalmente serve anche per ridurre il valore, il peso del debito. Infatti dovete sapere che l'inflazione riduce il potere di acquisto della moneta perché significa che aumentano i prezzi. Ora, questo è un problema se una persona ha moneta e la deve spendere. Ma in realtà invece è un vantaggio se questa moneta l'ha già spesa e la deve restituire. Perché spendere un tot di moneta oggi presa in prestito e ridarla indietro quando vale di meno ovviamente è conveniente. Ve lo dico in altri termini. Se da un lato la perdita del valore della moneta dovuta all'inflazione nuoce a chi quella moneta ce l'ha, cioè a chi ha dei carediti, invece, al contrario, giova a chi ha dei debiti perché i loro debiti perdono di valore. Ovviamente non mi sto riferendo al valore nominale, cioè alla quantità di moneta in cui è espresso il debito, ma al valore di quella quantità che, pur rimanendo formalmente lo stesso, comunque riduce il suo potere d'acquisto a causa dell'inflazione. Inoltre dovete sapere che questa inflazione spesso è generata dalla creazione dal nulla di grosse quantità di moneta. E anche questa dinamica viene fatta senza il consenso dei cittadini. Cioè, in altre parole, i politici spendono denaro, non l'oro, sottraendolo alle nuove generazioni senza chiedere il loro consenso e, in più, fanno perdere potere d'acquisto ai risparmi dei cittadini senza chiedere il loro consenso. Ma come possono fare i cittadini per difendersi da questo comportamento? Ebbene, i cittadini non possono in alcun modo fermarlo, cioè non c'è un reale modo, una reale soluzione che consente i cittadini di impedire ai politici di comportarsi in questo modo. Però, al giorno d'oggi, perlomeno per la questione della perdita di potere d'acquisto dei risparmi, c'è Bitcoin. Infatti dovete sapere che Bitcoin nasce proprio anche per questo scopo. Bitcoin è stato creato dai cittadini, non c'entra niente né con gli stati, né con i politici, né con la propaganda, né con il debito, ed è una moneta che è stata creata appositamente per o non soffrire di inflazione o per soffrire pochissimo di inflazione. Tra l'altro, finora, da questo punto di vista, sembra che stia funzionando. Quindi, Bitcoin è sempre di più uno strumento nelle mani dei cittadini, non controllato e non controllabile dalla politica, che consente, per l'appunto, ai cittadini di difendere, perlomeno in parte, i propri risparmi dalla perdita di valore dovuta all'inflazione, che fondamentalmente è necessaria per tenere sotto controllo o addirittura diminuire il debito pubblico, che invece, nominalmente, continua ad aumentare. Ora capite anche bene perché a molti politici Bitcoin non piace. Tuttavia, anche gli stessi politici potrebbero trarre vantaggio da Bitcoin se hanno dei risparmi. I politici credo che di risparmi ne abbiano e come. Anzi, vi dirò di più. Secondo me, più passa il tempo, più anche i politici capiranno che Bitcoin può servire anche a loro, meno detrattori Bitcoin avrà. Cioè, secondo me, alla fine, persino i politici non saranno più detrattori di Bitcoin. Paradossalmente, nel momento in cui si renderanno conto che, anche se continueranno a inflazionare la moneta fiat, potrebbero loro stessi usare Bitcoin per proteggere i loro risparmi, ecco che, a mio parere, Bitcoin non solo avrà meno detrattori, ma troverà anche qualche sostenitore in più. Credo che da questo quadro si comprenda bene la forza di Bitcoin, soprattutto sul lungo periodo. Per carità, io in questo video ho fatto una estrema sintesi, vi ho raccontato in pochissime parole, pochissimi minuti, un quadro che in realtà è molto più complesso, ho dovuto semplificare molto. Ricordo però sempre a tutti che chi avesse bisogno di maggiori delucidazioni e volesse farmi delle domande, può scrivermi via email, perché via email io rispondo sempre a tutti. Un saluto, ciao!